Siamo con l'ingegner Francesco Cariello e parleremo di una nuova tecnica, ovvero l'agricoltura 4.0. Che cosa si tratta e se si può definire un'agricoltura smart? Senz'altro l'agricoltura 4.0 rappresenta il futuro del nostro Paese, un'agricoltura che mira senz'altro al migliorare sia la qualità dei nostri prodotti sia la sostenibilità di tutto il settore agricolo. Agricoltura 4.0 vorrebbe sposare tutti i principi di industria 4.0, cioè tutte le attuali tecniche di innovazione applicate al settore dell'agricoltura. Ecco, quali sono i vantaggi che un'azienda ricaverebbe da attuare questa tecnica? Sicuramente un'azienda si posizionerebbe sul mercato con dei prodotti con migliore qualità, con anche dei conti da un punto di vista anche della sostenibilità economica, ambientale e anche finanziaria migliore, perché l'agricoltura di precisione e l'agricoltura 4.0 permette all'imprenditore di utilizzare in maniera precisa tutte le risorse a propria disposizione, quindi senza sprechi se vogliamo. A che punto è in Italia? Ci sono già aziende che hanno investito su questa strategia? Senz'altro ci sono degli esempi che mostrano i benefici dell'utilizzo di tecniche innovative in agricoltura, ma c'è tanto ancora da fare perché la superficie agricola utilizzata e magari anche coltivata con tecniche di agricoltura 4.0 è ancora ai minimi livelli. L'obiettivo dell'Italia è di portare la superficie totale agricola gestita e comunque coltivata con tecniche di agricoltura 0 almeno al 10% dell'intera superficie disponibile e coltivata. Quindi questo è un obiettivo che riteniamo si possa raggiungere semplicemente investendo nella formazione e nella diffusione di queste tecniche innovative in tutti gli operatori del settore, partendo dagli imprenditori ma coinvolgendo le università, il mondo della ricerca e anche il mondo politico. Quindi una nuova strategia che coinvolge tanti settori e tanti aspetti. Andando sul pratico, quali sono le nuove figure, le nuove professionalità che possono venire fuori dall'applicare questa agricoltura 4.0? Sicuramente l'agricoltura 4.0 ha bisogno di un sistema integrato che inglobi sia i sistemi informativi dell'azienda, sia i sistemi di supporto alle decisioni dell'imprenditore. Quindi una formazione sia in ambito gestionale sia in ambito tecnico operativo di campo, con l'utilizzo anche di macchinari e di strumenti sempre tecnologicamente avanzati, di stampo smart inteso come la massima tecnologia oggi a disposizione sul mercato, applicato alle tecniche, agli operatori e alle modalità con cui si coltiva. L'agricoltura 4.0 dà uno slancio e amplifica quanto già oggi si può fare con le tecniche esistenti, migliorandone sicuramente le interconnessioni per sempre dare un supporto decisionale all'imprenditore maggiore di quello che attualmente la tecnica può dare.